Ci troviamo nella fase più importante di questo campionato di eccellenza, oggi di fronte a Spoltore contro Lanciano, che non finisce mai di sorprendere, secondo mandato per il trainer Stefano Bellet. Missione è quella di fare i più punti possibili in questo rush finale, idem per lo Spoltore, scappare dalla zona bruciante per evitare il peggio. Direzione affidata a Pier Ludovico Arnese di Teramo, riflessi filmati di Pino Di Felice. Primo caso discutibile già al quarto minuto, Colasante viene messo in terra. Vediamo un po'. Si prosegue. Adesso andiamo con le immagini al minuto 12, lungo e preciso rilancio di Elezai. Campagnol è pronto a raccogliere l'invito e a mettere in rete lo 0 a 1 replay. I rossoneri incidono al ventesimo con Rey. Alto! Reazione Spoltorese, venticinquesimo minuto. C'è un corner, ne approfitta di Renzo. Oh, sembrava gol! Il lanciano mette in mostra il meglio di sé in quest'azione avvolgente. Minuto 30 con Campagnol. Bravo Palena, meritevole di un replay. Lo Spoltore, con tenacia, riesce a pareggiare con Cristian Belli. Uno a uno. Da rivedere assolutamente. A questo punto l'incontro cambia volto. Trentottesimo lo Spoltore non riesce a concretizzare questo tentativo offensivo. L'ultimo, guarda caso, è di De Vincentis. Pala in out. Prima del riposo. Quarantatresimo. Planamente. Niente. Fa anche rima. Uno a uno e si va negli sfogliatoi. Secondo tempo. Ci siamo. Rey, fortissima rimessa a centro. Ma forse era qualcos'altro. Conclusione del sesto minuto. Andiamo al decimo adesso. De Fabritis invita Campagnol. Ma lui è in ritardo. Focus alle minuto 14. Intesa perfetta con Planamente. e De Vincentis segna il 2 a 1. Il Lanciano soffre vistosamente la cattiveria agonistica dello Spoltore. Infatti arriva, direi anche meritatamente, il 3 a 1 al minuto 17. Gol greffato dall'ottimo Planamente. La risposta dei Frentani. Trentaduesimo in questa stoccata di Rey. Palena non ha problemi. E solo Spoltore. Minuto 36. Marco Tuglio schiaccia ottimamente. Su angolo calciato da Planamente. Questa è l'ultima. Quarantacinquesimo. Campagnol. 1-3 milioni in campo. Perfetta scelta di tempo. Niente. Finisce qui. Spoltore. Batte Lanciano. 3 a 1. Di Camillo, innanzitutto io le devo chiedere una cosa. Come si sente nelle vesti di calciatore allenatore? È una responsabilità grande che la società mi ha dato un paio di mesi fa. Io sono orgoglioso di questo perché oramai qui è la mia seconda casa. Sono sei anni che sono qui. Non nascondo che è una cosa difficile. Ma ho due collaboratori come Murelli e Zuccarini. Ma ho tutto lo staff che mi danno una grande mano. Quindi è molto più semplice così. Oggi dopo che avete guantato l'1 a 1 tutto è cambiato. È finita la 3 a 1 la gara. Eh sì. Loro sono partiti molto meglio rispetto a noi. Trovando a ridere il vantaggio. Noi forse eravamo un po' contratti perché ovviamente abbiamo una squadra giovane. Abbiamo iniziato con 7 under. Non è semplice per loro vivere un momento brutto calcisticamente come questo. Però dopo che ci siamo sbloccati dall'1 a 1 penso che abbiamo fatto veramente forse la migliore partita da quando sono su questa panchina. A proposito, per terminare. Il futuro. Calciatore continua a giocare oppure si siederà bello comodo a Pollo Agliato in panchina? E questo lo voglio sapere. Bello comodo in panchina è meglio. Io penso a queste quattro partite poi con la società. C'è un rapporto anche al di fuori del calcio. Penso che il primo obiettivo è salvare. Mi dica che vuole continuare a giocare. E salvare questa società. Se continua a giocare mia moglie che adesso mi sta vedendo mi caccia di casa però va bene. Che meraviglia questa cosa qui. Grazie di Camillo per essere stato con noi. Grazie a voi. Tutto bene Stefano. Poi dopo il pareggio cosa è successo? Punto interrogativo. Niente. Sembravamo una squadra a primi 25 minuti di categoria superiore. E poi invece il primo in topo come è successo parecchie volte in questo campionato. Cioè parecchie volte. Delle volte non siamo riusciti a mantenere quello che stavamo facendo e abbiamo dato campo agli avversari. E comunque hanno interpretato una partita bella, grintosa, maschia. E hanno meritato di vincere. Quindi dobbiamo sicuramente analizzare meglio la partita. Non so cosa abbiano fatto le altre sopra ma penso che sia chiuso il discorso di playoff. Meno un miracolo. Comunque io direi, mi perdoni Stefano, è molto difficile giocare con quelle squadre che si devono salvare assolutamente in cerca di punti. È la palese dimostrazione proprio oggi contro lo sportore, vero? Sì no, a prescindere dalla classifica dello sportore. Hanno meritato di vincere mettendo tutto più di noi. Quindi va dato merito, va fatti complimenti alla squadra avversaria che, ripeto, ha meritato di vincere. Noi dobbiamo fare mia colpa e analizzare, ripeto, gli errori che abbiamo fatto. Non commetterli più e cercare di preparare il meglio la prossima settimana perché abbiamo un campionato da onorare, da rispettare. Cercare di fare più punti possibili e poi alla fine dell'anno si possono tirare le somme. Grazie Stefano Bellè. Grazie a tutti.